Lo scorso 8 maggio a Milano TCL ha presentato i nuovi tv di grandi dimensioni a partire dal modello con diagonale da ben 115 pollici allunciato lo scorso anno. Un tv che può benissimo sostituire un videoproiettore dall'alto della sua diagonale che va oltre i 290 centimetri, 20.000 zone di local dimming e un picco di luminanza superiore ai 5000 nit. Un tv per cui dovrebbero dare in dotazione degli occhiali da sole. Tra smartphone, occhiali con visore HD per realtà aumentata e nuovi condizionatori con innovative funzioni per immettere aria fresca e filtrata dall'esterno abbiamo potuto assaggiare le prestazioni non solo del 115 pollici ma anche dei due nuovi 98 pollici serie C65 e C85 che mantengono tutte le promesse e le alte altissime aspettative per quanto riguarda potenza luminosa, zone di local dimming, estensione del gamut, linearità, rapporto di contrasto nativo e qualità video generale anche appena fuori dalla scatola. A rimettere insieme le caratteristiche il nuovo catalogo dell'offerta TCL ci ha aiutato Nicola Micali di TCL, intervistato dal nostro Nicola Zucchini Buriani. Siamo qui con Nicola Micali di TCL, avete presentato la nuova gamma di TV concentrandosi soprattutto sui tali di grande diagonale che stanno andando molto bene nel mercato italiano. Sì, stiamo vivendo un'esplosione nonostante il mercato sia in contrazione post periodo dello switch off ma in Italia registriamo una crescita notevole al di sopra dei 70 pollici. Giusto per declinare un numero, 2019 in Italia, quindi nel totale, su queste dimensioni sono venduti poco più di 30.000 pezzi, 2022-2023 siamo andati oltre gli 80.000. E' un 2024 ancora più promettente in quanto nel primo trimestre si sono venduti più di 20.000 pezzi, quasi 23.000, per cui con una stima semplice possiamo approssimare la chiusura avvicinandoci addirittura ai 100.000. Boom ovviamente è guidato anche da posizionamenti prezzi sicuramente differenti a quelli che sono gli altri anni a cui abbiamo fatto riferimento, quindi il 2019-18 è antecedente, è guidato anche da questo 98 pollici, di cui voi avete testimoniato l'introduzione, a luglio del 2022, poi lo scorso ottobre abbiamo esteso ulteriormente la line-up con più modelli, più tecnologie, più posizionamenti prezzi, oggi raccontiamo un'ulteriore evoluzione, quindi da 98 addirittura a 115 pollici. Esatto, e questo è un po' il motivo per cui come TCL siamo sempre più vicini a queste tecnologie e a queste dimensioni. Certo, e quindi con il nuovo 115 pollici si va ulteriormente ad ampliare con anche prestazioni di un certo rilievo tra l'altro, perché 115 pollici è un full LED con tantissime zone di controllo di local dimming e un piccolo di ruminanza molto importante. E sì, decliniamo anche qui qualche numero, il local dimming supera le 20.000 zone, la luminosità tocca i 5.000 nit, sono valori impressionanti per delle tecnologie per l'utilizzo domestico e ancora di più lo è anche il sistema audio, avrete notato questo pannello integrato all'interno di quello video che costituisce un sistema audio 6.2.2 che insieme al comparto e alla soluzione video insomma lo rende davvero un cinema, uno strumento per rivivere a casa le emozioni del cinema ma anche quelle dello sport, visto che siamo sponsor della Nazionale Italiana di Calcio, anzi di tutte le nazionali e quindi sarà lo schermo per vivere al meglio quella che sarà la competizione degli azzurri che inizierà tra qualche mese. Non ci sono solo questi tagli così grossi di fascia più alta, ma ce ne sono anche altri di fascia sempre importante, nel senso sempre tagli grandi, ma il prezzo un po' più basso, la serie C. Sicuramente, ci siamo abituati a parlare, a raccontare come dicevi tu Nicola, solo di magari adesso, negli ultimi mesi di 98-115, condividiamo con il consumatore che ci vedrà, che vendiamo anche i 32, i 40, i 43 pollici e come dici tu anche delle fasce di prezzo più accessibili con dei 55 pollici QLED più vicini ai 500 euro, citerei la serie C65 in cui rispetto alle caratteristiche così tradizionali a cui siamo già stati abituati in passato abbiamo anche integrato il subwoofer, per cui un ulteriore elemento di valore dal punto di vista tecnologico per valorizzare l'audio, non soltanto la firma Occhio. Come si articola l'offerta TCL sulle varie serie? Il 115 è il prodotto iconico che è Braccia che gioca in questa fascia, poi avremo tre nuovi 98 pollici, quindi con sia tecnologia Miniled che con tecnologia QLED e poi andiamo alle serie tradizionali sia Miniled che QLED che copriamo dal 50 al 98 pollici. Ciao! 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 Ciao!